bella zoi ragazzi sono zodia che ben ritrovati sul nostro canale oggi sono qui in compagnia di jtf human ciao raga e vi portiamo un gameplay che ci avete chiesto in tantissimi come state vedendo dal banner su in alto una cosa un po tutta stravagante infatti dalla parte destra c'è la mia partita la parte sinistra c'è la partita human qui c'è tutto questo banner che divide il gameplay se così si può dire e da come avete letto dal titolo è una combinata in tutti contro tutti adesso chi ce l'ha chiesta di farla saprà benissimo che cos'è ma molti altri stanno chiedendo che cos'è questa cavolo di combinata allora in pratica eravamo nella stessa partita di tutti contro tutti io human e dovevamo portare a termine tutte e due una chem strike ovviamente senza ucciderci tra di noi perché se no non avrebbe avuto senso tanto vale che la buggavamo quindi io ero da una parte della mappa lui dall'altra e non dovevamo ucciderci e portare a termine questa chem strike ma come in tutte le imprese in tutti questi gameplay difficili ci sono sempre delle difficoltà che adesso human mi andrà da rincare ecco raga adesso vi dico le difficoltà che abbiamo incontrato ovvero che dovevamo trovare innanzitutto la lobby buona c'è la lobby diciamo di gente scarsa e poi non ci dovevamo ovviamente uccidere tra di noi poi vabbè adesso vi spiego la tattica che usavamo io e zoliac allora o io o zoliac cercavamo la partita poi uno di noi due partecipava e niente tentavamo questo gameplay il brutto il brutto che è accaduto in molte partite che abbiamo fatto è che se io o zoliac moriva dovevamo per forza uscire e saltava tutto dovevamo riuscire a partecipare quindi questo un po in brutto di questo gameplay poi niente le difficoltà alla fine sono queste che viene in dato e vuoi dire qualcosa a te zoliac allora ragazzi ci ho messo 50 anni a sincronizzare questo gameplay più o meno dovrebbe essere tutto a posto quindi speriamo che mi chiami a qualche ditta di film no dai adesso basta cazzate allora una difficoltà appunto come ha detto human è che se uno era in serie di dieci poi veniva ucciso doveva per forza uscire e rientrare nella partita come farà human in questa partita infatti all'inizio io starò giocando lui starà entrando si vedrà proprio la mappa che si carica però ragazzi appunto per fare cioè per far sì che le chem poi partono allo stesso momento cioè la sua chem perché alla fine glielo ho fatta tirare perché io l'avevo fatta da un po' ero fermo infatti quel pezzo ve l'ho velocizzato stavo dicendo glielo ho fatta tirare in modo tale che poi si vedeva sul suo schermo la sua chem che andava sul e sul mio sempre la sua chem che andava in modo tale che capivate che era la stessa partita non ci sono trucchetti sotto i nemici sono tutti random ed è un gameplay abbastanza difficile da fare infatti ci stavano provando pure velox e power tanto tempo fa però non ce l'hanno fatta ragazzi un po va anche di culo però vi posso dire che ci sono tante tante difficoltà poi spesso si trovavano gente proprio di merda con scudi anti sommossa c4 che facevano apposta partecipare per rompere i coglioni noi non ci potevamo mettere in invisibile se no ora che uno dei due partecipava dall'altro nella lobby prepartita diventava un casotto se ci si doveva invitare quindi c'erano molte difficoltà appunto e durante queste prove siamo riusciti cioè almeno human è riuscito a fare un gameplay perché su su soverange abbiamo anche provato lui ha fatto una doppia chem strike col maverick adesso il punto è che io continuavo a morire sono morto tipo tre volte dieci allora uscivo rientravo e una di queste volte sono rientrato e human mi ha killato quindi su 50 kill della doppia chem strike in tct col maverick maverick una l'ha fatta su di me però comunque nonostante questo il gameplay è molto bello quindi se vorrebbe cioè se volete noi ve lo portiamo però si è fatto una kill su di me non credo sia una cosa troppo nel senso da rimarcare su 50 kg comunque stavamo provando il gameplay per voi e può capitare quindi io vi ribadisco se lo volete lo si carica se no ci sono altre doppie chem strike in tct però siccome era fatta col maverick comunque poteva essere qualcosa di carino non so human sei ancora qualcosa da dire che sto aggiungendo al termine il commento esatto volevo dire qualcosa di questo gameplay del maverick che ovviamente io sono preso a sponchillare diciamo nella zona quindi zoya che non ha fatto neanche in tempo a dire che era nato nella mia zona e l'ho killato quindi non credo che sia un problema cioè alla fine una kill su 50 non credo che disturbi cioè poi fateci sapere voi ragazzi noi ci adeguiamo comunque potrebbe essere un bel gameplay è un'altra difficoltà di fare questi gameplay che comunque ci si deve parlare perché se uno muore a 3 4 kill non succede niente solo che se poi quando rinasce rinasce diciamo nello spawn di quello che sta aspettando il nemico ci si deve parlare deve dire guarda sono nato qua non uccidermi lasciami passare e però tra tutte queste cose ci si deve anche orientare con le cuffie per sentire i passi quindi anche questo diventa abbastanza difficile io vi invito a provarlo potrebbe essere una cosa carina però vi dico ci sono tante tante difficoltà le classi e cose del genere ragazzi non c'è tempo il gameplay è giunto al termine un bel 600 like passate dalla pagina facebook e un saluto da jtf human e jtf zoia bella ragazzi ciao ragazzi ho una giolla che sembra un bazooka nella tuta minchia non ti piacciono i gtf minchia ammazzati figa sparati quando arrivo devi farmi passare